Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo format, che come già vi avevo anticipato in un video precedente, lo faremo unicamente per il corso dell'estate, ma forse neanche tutta, soltanto una prima parte dell'estate, fino a che ovviamente non finiremo il trasloco e non ci saremo trasferiti nella nuova casa, perché siamo nel mezzo un po' al bordello, quindi sarebbe impossibile fare i video come prima. Ma tornando a parlare di romanzi, perché comunque è un argomento che mi piace moltissimo, è una delle mie passioni principali, sto anche tornando a scrivere, qualcosa che non voglio spoilerare né niente perché vorrei anche pubblicarla in futuro, comunque sto tornando anche a scrivere e a leggere moltissimo e mi piacerebbe ricontinuare a portare sul canale anche romanzi e libri game, quindi tutta quanta parte di letteratura e soprattutto il genere a me preferito, lo sapete che sono l'horror, il fantasy e lo sci-fi spaziale. Mi è capitato nell'ultimo tempo di vedere diverse recensioni, di leggere insomma diverse recensioni o vedere video recensioni che parlavano di una saga che io non avevo mai letto in vita mia e devo essere sincero, da ignorante non avevo preso in considerazione, me ne era ammarico di averla scoperta soltanto ora, perché anche in passato, magari vent'anni fa mi avrebbe potuto darmi tantissimi spunti, anche come master per giochi di ruolo e cose del genere. Comunque, non è mai troppo tardi per avventurarsi anche in saghe magari uscite negli anni Ottante, se non erro, nel 1989, come la saga di Hyperion di Dan Simons e l'edizione che vi vado a presentare oggi, che nel frattempo vedete un pochino di immagini, è quella edita da Mondadori, i canti di Hyperion. Ora, io non mi c'ero mai avvicinato, anche perché io ho dei gusti molto personali in quello che mi piace a livello di fantascienza spaziale, leggendo un po' di sunti, un po' di, se vogliamo anche, se no, si veniva fuori che Hyperion aveva una tecnologia di portali, quindi c'era il discorso del teletrasporto, c'era anche il discorso del viaggiare nell'iperspazio a velocità a luce, cose varie, che io, da fanatico dell'ambientazione di Alien, non mi fanno impazzire perché preferisco quelle ambientazioni dove se per fare un viaggio ci vogliono anche cento anni, ti buttano in persone e quello è. L'idea dei teletrasporti, che ti teletrasportano anche da un pianeta all'altro, che paghi con carta di credito, come c'è nel romanzo, non mi faceva impazzire, per non parlare poi di quelli più grandi che spostano addirittura intere colonie e navi. Però, seguendo tante, come vi ho detto, recensioni ultimamente, ho visto che ne parlavano benissimo e dicevano, se ti piace la fantascienza, non puoi non aver letto Hyperion di Dan Simmons perché è uno dei padri della fantascienza moderna, un po' come Frank Herbert con Dune, è stato di quella appunto del, anche tuttora, però più che altro del passato, no? Tempi di guerre stellari e cose del genere, mentre invece, fine anni Ottanta, inizio anni Novanta, Hyperion è un pochino più, forse per la fantascienza, un po' più moderna. E ci ho ritrovato tantissime cose, tantissime cose poi usate a piene mani dalla GV per Warhammer 40.000, ci ho ritrovato tantissime cose addirittura di un po' quell'idea di Dead Space, ci ho ritrovato anche, quindi andando fuori prettamente dallo sci-fi e dell'horror, ci ho ritrovato anche un po' il discorso del salto iperspaziale, il jump drive, un po' come vediamo, come ci viene fatto vedere nel film Event Horizon, che io adoro. Insomma, tutti quanti si sono ispirati a un'opera immensa come quella di Hyperion, che vi consiglio, ed è molto bella perché ora non vi sto a parlare della storia, perché ogni singola cosa detta per sbaglio potrebbe essere uno spoiler che vi va a rovinare il romanzo, quindi anche se vi capitasse di parlarne a un amico per consigliarlo, non dite niente, perché davvero questo è un romanzo che al 2000% basa tutto sul piacere della scoperta, quindi già spoilerare qualcosa gli ha rovinato completamente il romanzo. Comunque la storia vuole che ci sono sette pellegrini scelti in viaggio verso le tombe del tempo di questo pianeta Hyperion, dove in questo pianeta c'è una creatura aliena, che da come la descrivono sembra un po' un Necron, infatti altra cosa della GV di Warhammer 40.000, che viene chiamato lo Shrike, ed è una creatura che è mezzo macchina e mezzo biologico, e proprio per questo motivo, talmente questa creatura sfugge anche alle linee temporali, sembra potersi muovere sia nel futuro che nel passato, ci hanno fatto un culto, una chiesa, che lo vanno a venerare. E anche qui si ricollega un po' all'idea di unitologi, ad esempio di Dead Space, ci sono dei pazzi che vanno a venerare questa creatura assassina, che distrugge, ammazza chiunque, si avventuri nelle tombe del tempo, quindi strazi alle carni, e non sarebbe tanto una cosa da pregare, però c'è qualcuno che ci ha fatto un culto, e sicché vengono scelti questi sette pellegrini, che dovranno fare un viaggio in pellegrinaggio, appunto, alle tombe del tempo su questa pianeta, a Hyperion, e sono stati selezionati tutti quanti, ma tutti quanti hanno un motivo per andare là, perché, se no uno direbbe, se viene selezionato per fare il pellegrino e fatti ammazzare, e col cavolo che ci vada o no, ognuno di loro ha un motivo per andarci. Quindi l'idea principale, che un po' mi aveva spiazzato, poi invece dopo, è stata particolarmente lavorata e ampliata da Dan Simmons, che ci ha dato anche una ragione per cui loro fanno questo viaggio, perché ognuno di loro ha o è già stato su Hyperion, o ci deve tornare, ma comunque c'è un motivo. E vediamo diversi personaggi, tipo c'è un colonnello dell'esercito, il colonnello Kassad, abbiamo un poeta che è nato sulla Terra, Martin Sileno, abbiamo addirittura un professor Ventraub, che ha una certa età, cioè ha tipo una 65-70 anni, una persona anziana che va a giro con una bimba di pochi mesi, abbiamo addirittura Hitmastin, che è un templare, bello, alto, grosso, con questo mantello, che sono un po' anche l'elite di questa ambientazione spaziale, che ricordano un po' anche volendo gli Space Marine di Warhammer, e altri personaggi. E tutti loro insieme, visto che il viaggio sarà molto lungo per arrivare al pianeta di Hyperion, dovranno, scelgono di raccontarsi la loro storia. Cosa li ha condotti su Hyperion? Anche perché si pensa che fra di loro ci sia nascosto un possibile infiltrato, che dovrebbe sabotare la missione. Comunque, gli è stato detto che in questo pellegrinaggio, quando arriveranno alle tombe del tempo, sei di loro, sono in sette, sei di loro moriranno, e a uno di loro saranno espressi i propri desideri. Quindi, anche per il piacere della conoscenza a livello galattico, uno di loro avrà le risposte a quello che cerca, e gli altri sei moriranno. Vanno questo viaggio, vanno fino laggiù alle tombe del tempo, e durante il viaggio, ognuno di loro racconta la propria storia di come l'ha condotto fino a quel momento. E le storie sono completamente differenti, come anche i personaggi. Ovviamente, un Templare non potrà mai essere come un colonnello dell'esercito, e un colonnello dell'esercito non potrà mai essere come Martin Sileno, che è un poeta. Quindi, ognuno di loro ha una storia completamente differente, e sono veramente tutte quante belle. Poi, a gusti, magari qualcuna mi è piaciuta di più, qualcuna di meno, però comunque le storie sono tutte belle. Io ve lo consiglio, da morire, se volete leggere qualcosa che è veramente lo spunto di tutta la fantascienza moderna, scritto anche in tempi che già comunque di per sé erano abbastanza moderni, perché si parla a cavallo per la prima edizione fra l'89 e il 90, comprate questa edizione della Mondadori, I canti da Iperion, un bel librone di 700 pagine, e come sempre, se lo volete acquistare, primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato, e vi ricordo che se il libro non lo trovate in lista, oppure lo trovate ma è finito, contattate Corrado, il proprietario della Gioco Libreria Semola, e il supporto tramite la pagina, scrivi al supporto, contattaci, e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, lui farà il possibile per trovarvelo, e usate sempre il coridice sconto, come vedete a nota, Coridan 7 per avere uno sconto e un discount pari al 7%, e per spese superiori ai 79€, spese postali gratuite in 24 ore a casa in tutta Europa. Ragazzi, se avete voglia di leggere, e come a me, perché capita, io ho letto tutto della fantascienza, questo evidentemente mi mancava, leggetelo, 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 che è veramente qualcosa di spettacolare, si passa dalle fasi di abbastanza tranquille, alle battaglie spaziali, alle sparatorie, al momento horror, c'è tutto, è un romanzo dove c'è dentro tutta la fantascienza spaziale degli ultimi 30 anni, spettacolare, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao ragazzi, alla prossima!